Da qui stendo le gambe avanti e le braccia dietro, apro fuori le braccia e tiro le gambe al petto. Dovreste sentire, dovreste riportare quella sensazione che abbiamo avuto negli esercizi di prima, in questo esercizio. E sentirete completamente il vostro stomaco che vi tiene su. E una bella sensazione di leggerezza e di unità del corpo. Guardate bene che quando vado dietro, le mie braccia possono andare indietro, l'articolazione della spalla è libera. Quindi quello che mi tiene su non sono semplicemente gli addominali, ma è tutta la colonna. Sono completamente libera anche nelle spalle. Bello intenso. Ok, da qui queste cose sono fondamentali per comprendere da dove facciamo partire le nostre estensioni. Nel sistema del mat come estensione abbiamo lo swan, il single leg pull, il double leg pull e il rocking. Ok? Lo swimming e il rocking. Li andiamo a vedere tutti. L'Emilia 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 L'angえー Grazie a tutti.